un buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video della serie viticoltura e la seconda parte dell'estirpo del vigneto il vigneto corto di mosche di dolcetto scusate la prima parte ve la metto qui in descrizione ma prima di iniziare vi voglio invitare di iscrivervi al canale se lo fate se lo farete anzi potrete rimanere aggiornati su tutto e attivando anche la campanella vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video ma adesso vi faccio vedere come si tolgono i pali in questa vigna stretta e in cima alla collina in cui non ci si può arrivare con un trattore vi faccio vedere come come ha deciso di operare il terzista che mi toglie i pali praticamente utilizza questo questa carrucola legata ad un treppiede viene legata con un gancio al palo tramite questo tondino di ferro che viene fatto passare nei buchi del palo di cemento e poi vedete com'è bello teso tirando semplicemente la catena guardate il palo come si muove vedete che sta uscendo il palo viene fatto uscire e poi come vedete lì sono già stati tolti precedentemente e rimangono da togliere questi e adesso andranno a finire e poi il prossimo passaggio sarà quello di venire con una ben scavatrice a rimuovere i ceppi delle viti vecchie e poi passare il terreno girare il terreno perché ovviamente saranno ci saranno stati dei calpestamenti con lo scavatore girare il terreno profondità circa 60 70 centimetri e poi riposerà tutto l'inverno lì con il letame sopra e poi ve lo farò vedere però in un prossimo video c'è ancora un piccolo passaggio che voglio fare ed è la rimozione di tutte le barbatelle di due tre anni che voglio recuperare per poi rimpiantare e farmi tre filari qui bene per questo video è tutto vi ringrazio per la visualizzazione è un video molto breve e noi ci vediamo in un prossimo video